dai luca ma vedi che te faccio passare no no vai vai tanto no 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 vieni vai vai mi sei fermata la macchina e mi sei fermata ha finito la benzina luca non ha fatto pit stop ma vedi si ma devi chiusa a far parlare no oh cazzo se faccio io già te ahahahah c'era lui si ma lui no ma lo merita luca che luca luca è luca cos'è questo razzismo non è razzismo no non è razzismo è fascismo bravo che boh ti ho fatto vedere pure il punto veramente e guarda qui c'è il primo punto muovere la tutta noi vedete la prossima super che cosa dice boh noi prendiamo tutti la stessa auto ah io faccio l'ultima e poi esco eh sì dove? qua andiamo a vedere no perché non ne va sinceramente la fa un'altra torta e corso di carica no perché se no dopo viene quella eh e non rivelto ah beh ma famo questa poi riuscimo e no ma bene io volevo fare quella di ieri che c'era l'amica di gt di claudio e io prendo l'amica di gt è rimasto indietro 20 anni arriviamo fino a un lato e basta eh 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 ah perché ne deve entrare ancora vedere ecco perché arriviamo qui là poi riuscimo vado eh un atto ci metti in trovo ok ok si allora prendiamo bf4p prendiamo la gas oil anzi prendiamo la zombie bobber a comunque traudio ne ha vinta una eh eh prima ha vinto una gara eh sta pezzi sta pezzi E' vero, è vero, è vero, sei sognato, come guarda quella mia... Ma perché m'ho gelato? Ancora chiederete? Guardalo, guardalo, guardalo! Con la zombie bomba è sopprima! Mi spengono, mi spengono! Oh, Luca è primo! Era primo! Hai volato in giù! Luca, mamma mia, come ho scherzato? Mi aveva detto qualcosa! Stavo a fanculo! No! Ti sento! La mette devo andare a carla! La mette devo andare a carla! Mi sento bene! Ti senti bene? Mi sento bene, sono qui qui HD, non mi è di cazzate che... Vedendo! Ah, quella sua cosa! Oltre a più delle le... Quei gubbi! Eh, ma la vera tu internet, come lo dici! E' la boss! HD, SD! Vai, un bel bano! HD! Ah, lì, lì ha altra qualità! Ah, no, ha il caso di visitata! Sì! Ah, va, 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 va! Mi spingono! Oddio! Ah, che buono! Ci credo che fa lo stand-up! Sì, sì! Ma vedi le madonne che tirano! Non c'è vero! C'è vero! E' la madonna! Io riesco! Ehm... T'ho detto, sicuramente su qua di scesa! E' madonna che tira! Soprattutto... Lele! Ho dovuto DJ Grinch, a pensare! DJ Grinch! Eccilo, eccilo! Mi sento... No, credo che non c'era modificato! No! Che cazzo hai fatto? Se hai tutt'olio? No, mi guarda non c'è! Sembra calda, non la senta! No, non la sentire di far la differenza! C'è il Dino che fa nella differenza! C'è il Dino che fa nella differenza! C'è il Unภrables! Si so, miro anche! No la sentire di far the novel church, vi ho trovato! No, non il invece è anche s Così si le fa danger40mente! Dentro il sequolo del butto, se vede la droga oh no, ci sono un dato è il riscotto oh no, è un po' è un po' il claudio è un po' il claudio si è suicidato perché perché Dio quando ho capito ci vuole male vedo che ci suicidiamo A health madonna ma manco Sanpei Sanpei ma gravame, sui T-Brill in mezzo jee Ehi guardalo guardalo adesso che è morto E' birilli in mezzo Nooo cosa hai fatto? No ho preso diciamo il ponte delle tue Ah che bel rumore sta molto madonna Ah guarda Ho preso la zone di Bobbert per fare la delle idee che si spazzacare Ah si, bel rumore quello E' bello che ogni volta che suona il crash con che c'è davanti Claudio mi dice guarda che è mortato quello davanti Ehi guarda che è morto Oh ecco DJ Lele attenzione Ah per me dovete imparare un pochettino a guidare Cioè se hai veicoli se hai morto Ci renda strano che E comunque io non dico Anzi parliamo di me Tu, 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 tu lele che moto c'hai La shotata no? Eh sembra strano che c'ho la zone di Bobbert Un Harley Davidson ne vado Sono primo e tu sei E sei quarto Dovrebbe se prima è una regola Sì appunto Cioè dovrebbe essere tra il terzo, secondo e prima Io dovrei essere addirittura Forse intimo Cioè non so Luca che cosa sceglie E vuole dire che c'è una moto del merda io No però comunque con una shotata c'è una grande possibilità Cioè scusa è come dire, non è come dire Voi siete con la X80 Proto Io so con la bici Però io so primo Lele con la X80 Proto è qua Che cazzo è? Ah bicicletta di azioni Cioè Una bicicletta di Iron Man mi so preso Ah ma guarda se andrebbe a Fatacce queste Andrebbe più veloce Ma perché tu devi inquadrare Guarda lì dietro dire quanto E va più veloce E va più veloce Ma quando arriva la tua madre che ti parla Tu guarda lì indietro Lascia parlare la tua madre e vedi che va più veloce Tutto il gioco cambia Cioè il tempo che va allì indietro Il giorno diventa la notte E la notte diventa giù Simeone inizia a prendere le partezze di Gerard Matti e Mandrasso inizia a prendere le partezze di Carmelina Cicciolina prende parti di... Di Fede E qualcuno E pure Cicciolina è incappellata E prende invece I dei cappelli di Cicciolina Ma dai E' il isegno E' il fatto E' il fatto E' il fatto Ciccio nooo che cosa ma stavo proprio sull'orlo eh scusa stanno in camera i birilli ci sono i birilli in mezzo eeeh 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 e niente qua me l'avevo sempre acchiappavo che cazzo lo fa o mi vuole troppo eeeh 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 quanto manca qua la corsa eeeh 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 guarda se non è questa io faccio questa e poi esco eeeh eeeh poi uscivo eeeh 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 Nadale Nadale? 6, 4, 6, 3, 5, 2 Nadale Tutti qui Quelle fatte Cioè tipo no Luca, mi fatti capire Guardate le mie sconfitte Io non è che le ho soltanto vinte Ne ho fatte 1013 di sconfitte Favi capì Ma secondo me Se devono impegnare su questo No è che con Cioè La bravura non viene da subito Viene dopo un po' Ma io all'inizio faccio tante schifo A parte che io arrivavo Primo, cioè io arrivavo ultimo Anche perché mi buttavano fuori strano Però qua si capisce Nessuno ci tocca Che di solito Non dico che nessuno ci tocca mai Ma da solito Non ci tocciamo mai Avevo paura che Mirko ci pigliava lì cazzo Meglia Caproia Sono passato lì e gli ho detto Chiudo gli occhi perché non voglio sapere un cazzo Non mi abilità le armi Non mi abilità le armi Non ciò che lo vado a vedere Guarda, guarda, guarda 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 Che mortale Non ti è che ha colpito pieno Ho cerito tutto E' vero? Anche non lo so E' no, io c'ho cazzo No, cazzo Ho preso il coso in pieno E' questo E' il tubo Ehm, no, no Quello lì che è il tubo Ah si è questo Twister 2 Mi sa Si si è questo qua No, se non ho il tubo Ma sono un po' cazzo Mi sento veramente il coso in pieno Mamma Mi fanno cazzo da il cubo Ecco il cazzo Mamma Non ho il tuo dio Guarda che è il tubo No, cazzo Qua adesso è la tua vola Ehm, appunto Ehm E' diventata l'Ups E' infatti T'ho visto Può scendere giù Il cazzo Munchi è minuto con questa macchina Che abbiamo una velocità folle con questa macchina c'era un zaglio c'è dio è certo nooo che schifo caggeggio di merda citandomi il tuo occhio caggeggio di merda caggeggio di merda comunque io ho fatto un po' la nero custom l'ho fatta come nella vita reale quando te la presentassi ha finito te? ti metti nooo cazzo se va beeeh scavato ha vinto Nadal ha vinto Nadal ha vinto Pasqua bellissimo o se è passato avun po' io si è salito sopra ma cadami claccio di claccio no vaffanculo Nadal ma chi era l'altro? Nadal bravo vinci no c'era un altro con la fascia bianca che era il come si chiama? la maglietta blu o la fascia bianca fe... no feder no di Aurobic Federn eh? si quello di Aurobic i miei amici o piavano un Natale o piavano un altro? beh ma comunque non c'è stato non c'è stata storia secondo me non l'ho visto però secondo me a Natale è Natale ma che io vedi a Natale ti regalano un bel Natale non c'è stata storia mi cassa questa è fanno real giro per il giro no non c'è stato fatto non c'è stato fatto visto io non vorrei farla troppo presto ma però Jutra se la sta cavando bene che ci sono le carte a parlare si tu non ho ancora visto schiantata e non voglio farla troppo presto e ora no però c'è Lele che fa no 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 potrebbe fare una canzone Lele adesso Claudio mi segue mi vuole alla te e ci cappiamo in giro no cazzo no no raggio Claudio è dietro un bellissimo cacciato di giro e ecco mancina te mi credo che ci fai guardare ecco d e qui potremmo vedere l'audio che vola con quella macchina io la tessera trattata l'ho presa qua su quister 2 ha fatto un volo unico ha fatto si capiva un cazzo? ha fatto un volo unico se faccio la curva perchè è colpa mia che la macchina vada sola come cazzo faccio sistemare la macchina così? ma vada sola, se vada sola la curva non è colpa mia non mi resta neanche come in mezzo ai siti guarda sola la macchina quando fai in discesa vada sola io non posso farci niente lascia andare i vestiti, io non lo tocco neanche io ho voglia di farla sbittare eh c'è, faccelo così eh oh che c***o mamma del c***o che dice perchè è tutto il c***o si mangia cinese a volontà non lo so non lo so sono già 7 minuti a cercare la c***o questa messa è la guerra da unico non lo so 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 No, non c'è più ancora Eccolo, eccolo, eccolo No, no Al tubo Al tubo, quello che poteva andare al lavoro Sì, quello di 8, 40 milioni ancora le scorte compra Dico, quando le compramo queste scorte? Ciao, zia Eh? Ciao, zia di buca Ok Ok cosa? Ok Va bene Va bene Va bene Stai zitto Stai zitto tu Rispetto Non c'è con te Sicuramente Ma basta Luca sta facendo una siesta Eh, sta bevendo Una fiesta No, una siesta, una siesta, una pausa Ah, una siesta Pensavo una fiesta Sai Se hai fame puoi fare una fiesta Non ci vedo più dalla famiglia Non ci vedo più dalla famiglia Fa quello che non è il super v-dai Sì, vabbè, dai, farà, su Ma questo qua è il motoscapo, quello del colpo? No, una normale e' normale cambia tanto eh quando uno usa il mod menu e l'altro usa l'altro mod menu quindi è un po' carico e' bello e' bello e' bello e' bello oh mamma questo si incazza tutte le volte che mi fate incazzare voi e' sei sempre sci eh? e' ha capito bene? no no ha capito sei sempre sci ah si beh io esco a cercare la pensione ora ok ciao fra io ne faccio ancora io finisco io mi sto divertiti io chi vuole continuare a continuarsi mi sa che è questa qua no mi sa che questa è questa gra sportile classiche continua con ottimi come tessere testa graffa ma è standard tipo di gara e' appunto questa evoluzione città dai graffa e' sechia i muri vabbè 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 vagà vabbè 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 i timidi vabbè l'ultima la donna dunque abbia preso la cebole non ci posso credere dov'è chi che c'è la cebole in mano anche a un no no con che cosa si va con la torrella e luca eccilo non mi sono fatto come fate un cazzo avete capito e abbiamo con le modificate a te devi a stec questa ce l'abbiamo tutti faccio nati che sgrilluccica di rosso hanno messo che stai crescendo perché stavi di lato 200 metri davanti a me e chi lo 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 e chi che milko mi sa che tu stai volando ne eh lo sapevo quello lo sapevo ho visto l'altra che girava sta a pulire notizia oh oh no questo dove finito oh è proprio che mi fa paura No, no, no. Ora il volo non potrebbe solo una colpa. Non mi dà la colpa il volo. Ah, vediamo se Claudio fa la stessa cosa del mio. Vediamo, eh. Ah, ho preso il turbo. Ho preso il turbo, ho preso. UUUUUU! Ma che cazzo? Che mio frega, ti ho detto pure ieri Che ruote enormi che c'è assoluto? Ah no, perché? Guarda, eccola qua, la macchina del Claudio Eccola, eccola, eccola Precca la macchina del Claudio Vabbè, meno male ce l'ha dalla cuscita La nasigata La sua fidata a silent pass La gara silente Facciamo questa macchina Tac E qua invece Claudio qua si attacca Perchè? Ma comincerà molto più tardi questo Guarda non riesce a spawnare eh Stai davanti e non riesce a spawnare Ma è invisibile Ma è invisibile Ma chi l'ho Inizia a prendere il terreno Ma è sviniscita di rosso ogni volta a me Cadetero Non riesce a entrare il colore Ma è energia Ma è un esplorso Ma è necessario ma è necessario non voglio fare un attimo che ho visto che girava prima che ti aspetta che scende natura non lo so non lo so non lo so ma la ma 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 dai dopo andiamo tutti su fortanetti dai vabbè io c'ho da fare bella h1 z1 ancora gli invento di dentro la macchina e luca devo giocare ancora con luca io con alex ho già giocato c'è un po' di prova! ah c'è un po' di prova quello che ho fatto io ha detto male ho preso il coso rossatino anch'io lo stavo prendendo e ho dovuto tagliare un botto io sto a far video, fammi far bella figura, fammi vince ma vuoi che sto a far video? ma che c'è se c***o poi? mi stai facendo la live o il video? no no, sto a far video, per registrare la clip e beh carica, carica dopo io la carico negli eventi speciali perchè questa qua è evento speciale questo è l'ultima volta che possiamo fare le gare martedì per le torni martedì vediamo come organizzarci eh vediamo un po' poi su dove la mettono i doppi punti eh speriamo su le case le case subito devo venire se sono sulle case ma martedì che numero è? ehm boh ah c'è 11 lunedì, 12 martedì 12 ah c'è il 10, ah c'è il 10 io basta adesso esco eh ok ok ciao che tu dici che c'è il 10 per dirlo ah e se perdite l'anno continua? boh, è finita boh undecesima Vittoria di Nadal ma fino in c'è storia è finita mi raccomando anche io di c'è niente solo per il suo 6 4 6 3 6 2 in che abbiamo la telefonica no dillo che c'è chiama delle prostitute se non è prostituta io no 666 e il nome è il cosa il diavolo no con la dj glicer pistola che dobbiamo allora che famola e usciamo sto nascendo tutti interrompiamo l'amore